Buongiorno a tutti ragazzi da Zebra, buongiorno. Ma Corona, caro Corona, o cara Rai, che cosa volevate trasmettere? Dov'è la novità? Sì ragazzi, perché entro così a gamba tesa? Perché ieri ci aspettavamo nomi, ci aspettavamo scupo incredibili da parte di Corona ma alla fine non è arrivato nulla. Questo a parte che è veramente vergognoso, che non Corona, perché il Corona sta facendo la sua parte, cioè sta recitando il suo copione, sta facendo quello che lui sa fare di più, sputtanare, e quello che lui sa fare di più è quello di coinvolgere gente che molte volte forse veramente non c'entra nulla. O se ci becca, perché qualche fonte ce l'avrà, non voglio dire che non ha qualche fonte, ma ci vuole lucrare, vuole, non lo so, è cattivo. Io vedo cattivere in tutto questo, sincero ragazzi. Ma quello che mi fa più squallore è la RAI. La RAI che effettivamente non ha idea di nulla, la RAI che non si rinnova, una RAI che non sa portare contenuti, perché la verità è questa, RAI non ha contenuti. E quindi quando c'è un Corona di mezzo che può, perché attira a sé un'attenzione incredibile, incredibile, la RAI si abbassa, perché si abbassa a certi livelli. Ieri Corona non ha affatto nomi, ma questo per me era risaputo, perché è un gioco, è un giochino che deve essere portato avanti, e quindi perché bruciarsi subito? Aspettiamo, guardiamo, vediamo che succede. Se l'AIP abbassa, io rincaro con la dose. E questa è la situazione. Intanto la RAI per queste cazzate che ha detto Corona, perché per me sono delle cazzate, la Juventus deve andare in Serie B, lo sta dicendo da più di una settimana, che deve andare in B, ma mio caro Corona, e in effetti lo abbiamo visto con Fagioni, Fagioni sono stati dati sette mesi di squalifica, perché si è autodenunciato, ma chi è stato per prima è stata la società Juventus. La società Juventus sapeva e ha autodenunciato Fagioni insieme alla società. Ecco perché ha preso. Ma figuratevi se la FGC non stesse aspettando un passo falso della Juventus, ma figuratevi ragazzi, se potesse inculare la Juventus lo farebbe da un momento all'altro. Così non è stato. Perché la Juventus ha fatto quello che doveva fare, mio caro Corona. E queste sono le cazzate che il signorino si permette di assegnare alla nostra Juventus. Ora Fagioni avrà anche cinque mesi di recupero presso delle scuole, insomma farà un del sociale, non lo so ragazzi quanto possa servire, ma lui deve fare un percorso un po' più serio secondo me, ma sono cose loro personali, io non voglio entrare in merito a tutto ciò. E quindi niente ragazzi, che dire, per me è scandaloso, ripeto, non da parte di Corona, che sappiamo che è Corona, sappiamo che personaggio è, ma soprattutto della Rai, che è un'istituzione nazionale per portare gente del genere. Non voglio, sto giudicando Corona perché è il suo passato, quello che è, a me non interessa, ha pagato quello che ha pagato, non mi interessa, ma ci sono delle istituzioni giudiziarie che stanno facendo il loro lavoro e credo che noi dobbiamo lasciare lavorare le persone competenti, non su cose che dice Corona, nomi e basta, poi, come vi ho detto già ieri, bisogna entrare in merito a tutti i nomi che vengono fatti, cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, perché è facile dire Tonali, Zaniolo, è facile dirlo, ma bisogna capire nel merito, effettivamente, come siano andati i fatti, perché può essere che hanno scommesso, ma hanno scommesso su altro e sono cazzi loro, ragazzi, sono fatti loro quanto vogliono scommettere, se hanno scommesso su altro, se hanno scommesso sul calcio, sul calcio verranno scoperti, perché verranno scoperti, le tracce ci sono, eventualmente, non c'è bisogno di Corona, di sputare merda sulla gente e sulle società, perché a lui ha colpito anche il presidente del Lecce, conosco, che conosco, una persona seria, quindi non è bello buttare in bocca, in pasto anzi, buttare in pasto, sulla bocca di tutti, nomi che poi alla fine non c'entrano nulla, questo è un gioco pericoloso, è un gioco pericoloso che Corona è abituato a giocare, ma gli altri no, quindi, caro Corona, fai, no, non fai la persona seria, mi sembra un po' difficile a Corona dirglielo, però cerchiamo, noi che ascoltiamo Corona, cerchiamo di analizzare, cerchiamo di essere posati, ragionare e non dare giudizi affrettati, se vedete io ho questo secondo video che faccio in tutto questo, perché non mi piace in questo caso dare nomi affrettati, ragazzi come al solito vi chiedo un vostro like, iscrivetevi al canale chi non l'ha fatto e lasciate un commento, è importantissimo, ci vediamo alla prossima, un saluto da Zebra, ciao.